In un bellissimo discorso del 1939 alla Pontificia Accademia delle Scienze, il Papa Pio XII retoricamente domandava, non è forse la Chiesa stessa il progresso divino nel mondo e la madre del più alto progresso intellettuale e morale dell'umanità e del vivere civile dei popoli? Ovviamente bene immaginiamo la risposta del grande pontefice a questa domanda, ma quale sarebbe la risposta che oggi molti darebbero a questa domanda? Perché non ce lo nascondiamo, la Chiesa ha perso quel peso culturale che aveva fino ad alcuni decenni fa. Rimane un'istituzione certamente di grande importanza nel mondo, ma non si può dire che essa influisca sul vivere civile dei popoli. Abbiamo già parlato delle tante ragioni che nella storia recente hanno portato ad un indebolimento del ruolo della Chiesa nella società e io le voglio riassumere tutte con un atteggiamento fondamentale che definirei quello di arrendevolezza verso il mondo moderno. Perché la sfida vera è a livello del rapporto della Chiesa con il mondo moderno, con la famosa modernità, che vede la Chiesa irritirata o appiattita sulle posizioni del mondo stesso. Eppure, se è vero che il mondo deve essere redento, non bisogna mai dimenticare quella dinamica che ci viene dalla Didache, uno dei primi documenti della letteratura cristiana, che ci chiede di essere nel mondo ma non del mondo. Non è una differenza da poco. San Francesco di Sales così spiegava la funzione della Chiesa. Diceva che Dio è il pittore, la nostra fede è la pittura, i colori sono la parola di Dio, il pennello è la Chiesa. Ecco, diremmo noi che oggi questo pennello che è la Chiesa dipinge solo con colori smorti o attende che qualcuno le dica come dipingere. Nicolás Gómez Dávila ci dona un ammonimento terribile quando dice che gli stupidi una volta attaccavano la Chiesa, ora la riformano. Certo, la Chiesa ha bisogno senz'altro di essere riformata, ma non nel senso di appiattirla sul mondo e sulla divinità chiamata scienza. Non dimentichiamo quello che dice il grande scienziato Antonino Zichichi, che la stessa scienza in realtà ha avuto origine nel seno della stessa Chiesa di Cristo. La storia, questo ce lo dice chiaramente, ma gli uomini di Chiesa attuali se ne rendono conto? Un'altra domanda insieme a quella di Pio XII su cui dovremmo riflettere.